Questo coronavirus non è prigionato, non è prigionato. Ah, ma perché? Eh, è un virus, Angelo. Coronavirus. Coronavirus. Bravo, Angelo. Non mi stai a reccare, non mi soffrire. Non mi stai a reccare, non mi stai a reccare. Ora che ha allentato, ma due giorni di tutto, brucia o scarbonizza. Oh lì, ho vincito il virus, ha allentato, vè. Ha allentato il virus, ha allentato, ha allentato. Ho detto la telegiornale, ha allentato, ho vincito. Siamo campioni lì, siamo campioni lì. Ho detto, ho detto, tagliatello su Facebook, perché quando guarite hanno guarito, tagliatello, però. Tagliatello su Facebook, tagliatello. E poi quando guarite ci sono, la propria vigiaria, tagliatello. Quando hanno guarito, tagliatello, tagliatello. Tagliatello su Facebook, tagliatello su Facebook. Lì, ho vincito il virus, ha allentato, ho vincito tutte le giornate. Siamo fortunati lì. Abbiamo vinto, caro Marco. Abbiamo vinto, fra un mezzesimo fuori, ho vincito il coronavirus, Marco. Allegria, allegria. Ho vincito il coronavirus, Marco. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto.